Un errore in fase di elaborazione e così si giustifica la Soget S.p.A. concessionaria del servizio di accertamento a riscossione equattiva delle entrate tributarie del Comune Liraiano dopo le cartelle pazze arrivate ai contribuenti del piccolo centro Peligno riguardanti gli accertamenti per la TARES 2013. Ci scusiamo per il danno arrecato ai contribuenti, scrive Soget. Questa errata elaborazione ha determinato le emissioni di provvedimenti anche a carico dei cittadini in regola con i pagamenti. Comunque sì, assicuriamo che nella rielaborazione degli avvisi provvederemo ad annullare le cartelle a tutti i colori che sono in regola con i pagamenti. Per agevolare i contribuenti, oltre allo sportello di Raiano aperto tutti i mercoledì dalle 8.30 alle 13.30, si precisa inoltre che gli sportelli Soget, dislocati nella Valle Pelignia, sono a disposizione dell'utenza Popoli in via Garibaldi 24, lunedì e giovedì dalle 8.10 alle 10.30 ed il martedì e mercoledì e giovedì dalle 14.50 alle 16.50. Sul Mona presso Asconfidi il venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Corfinio presso la sede comunale il primo e il terzo martedì del mese dalle 8.30 alle 12.30.